Unire le celle in Excel è un sistema molto rapido ed utile per andare a formattare nel modo migliore il nostro risultato da presentare. Ad esempio se guardiamo questa tabellina qui, qui sono andato ad unire queste celle per mettere non applicabili perché per questi due clienti non ho un risultato. Però l'unione delle celle ci fa subentrare una serie di problemi sulla gestione del dato. Ad esempio se noi dobbiamo andare a modificare questa formula che fa semplicemente il prodotto tra la quantità e il prezzo unitario e poi la trasciniamo, vediamo che quando lui trova una serie di celle unite non mi permette di trascinare la formula, quindi dovrei farla a pezzettini e impazzisco, non è una bella cosa. Oppure se voglio mettere l'ordinamento questa tabella in modo differente, qui c'è sempre l'unione, quindi se faccio l'ordinamento anche questo non è compatibile perché sente appunto l'unione delle celle. Anche con la selezione, vedete se vado giù, selezionando la colonna, a un certo punto lui seleziona anche le altre due colonne, appunto perché sente la cella unita. Insomma ci sono un sacco di problematiche sulla gestione della nostra base di dati se dobbiamo cambiare la struttura, ordinamento, formule, eccetera. Quindi non è una buona cosa utilizzare l'unione delle celle in questo caso. Andiamo a toglierla, quindi andiamo sull'unione delle celle e ripremiamo il pulsantino, così verranno disgiunte. E lo facciamo anche sotto. Adesso cancelliamo il contenuto ad esempio. Qui su queste colonne voglio andare a centrare nelle colonne il mio risultato. Che cosa significa? Che se io ho un'informazione su una colonna voglio che poi venga centrata su queste tre colonne. Seleziono la mia base dati in questo modo. Faccio clic destro, formato celle, vado sulla scheda allineamento e sotto su orizzontale vado a mettere allinea al centro delle colonne. Perfetto, fatta questa cosa lui va a centrare tutto all'interno di ogni singola colonna. Se io qui sulla sinistra ci metto un NA, vedete che lui va a centrare nella colonna. Anche qua metto NA, vediamo cosa succede se lo metto in centro. Lui me lo centra tra qui e qui. Quindi lui comanda sempre con la prima colonna di sinistra. Lo devo sempre mettere a sinistra, così lui centrerà sulle colonne che io ho selezionato, che sono queste tre. Quindi lui centrerà sempre su queste tre. Qui avevamo una formula, facciamo un passo in più, quindi adesso se vado a cambiare l'ordinamento, questo funziona. Vedete, e gli NA me li mette in fondo. Adesso faccio un CTRL Z, così torno indietro. Quindi abbiamo risolto un primo problema. Qui ad esempio abbiamo la formula che va a gestirmi l'NA. Quindi se il prodotto tra la quantità e il prezzo unitario è uguale a zero, metti NA. Altrimenti calcolo il prodotto. Se io trascino questa formula, cosa succede? Che qui mi dà valore. Perché trovo un NA e quindi va in errore. Potrei gestirla con il se va errore, eccetera. Però lui comunque va a centrare l'NA su queste due colonne, non anche sulla terza. Questo appunto perché qui abbiamo un risultato e la formula ci dà appunto il risultato. Che cosa facciamo? Andiamo a togliere l'NA. Così non dovremo neanche ricordarci di scrivere l'NA perché lo farà in automatico la formula. Anche in questo caso non ha scritto niente, ma comunque lui va in... Non è che va in errore, mi dà il risultato, ma non me lo centra per il motivo che vi dicevo prima. Che lui centra sempre dalla colonna di sinistra verso destra. Quindi essendo che siamo sull'ultima, lui centrerà solo su questa colonna. Ma se io prendo questa colonna, seleziono la colonna, faccio un CTRL X e la metto qui... Ok, cosa succede? Che lui inizia a centrare su queste tre colonne. Sempre per lo stesso motivo. Da sinistra verso destra. Riformattiamo tutto con la formatazione. Vediamo che se qui vado ad unire, lui fa sparire il bordo. Se vado a mettere ad esempio un 3 e poi qua ci metto un 300, lui fa comparire anche la formatazione. Quindi vedete il bordino. Potremmo anche dirgli che qui nel centro andiamo a togliere il grassetto ad esempio. Così adesso se io vado a toglierlo, comunque rimane l'NA. Perché il grassetto è sulla prima cella. Quindi lui trascina comunque la formatazione che vado a mettere nella prima cella. Vedete che adesso lo faccio diventare rosso per giocare anche con la formatazione condizionale per metterlo ben evidente. Però quando inserisco dei valori, comunque i valori sulla destra rimangono con la formatazione dedicata a quella cella. Perché sono scorporate. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato di vostro aggredimento lasciate un bel pollizioni in su al video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete sostenermi in modo incisivo per aiutarmi a portare avanti tutto quello che sto facendo. Magari pensate a stipulare un abbonamento schiacciando sul tasto abbonati che trovate sotto al video. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao.